Reazione a catena, polemiche contro gli autori della trasmissione Reazione a catena sta facendo compagnia al pubblico tutti i giorni, come sempre durante il periodo estivo. I giochi serali, però, attirano da sempre molte polemiche, spesso contro gli autori, che concepiscono domande e risposte. Anche stavolta è stato così, e dopo il cambio di guardia tra due squadre, molti hanno osservato che la parola finale non aveva molto senso. Ecco che cosa è successo. Reazione a catena causa, qualche volta, molte polemiche tra i telespettatori e gli internauti, che criticano duramente sui social le parole scelte, e non solo. Anche stavolta è successa la stessa cosa. Nella puntata andata in onda qualche giorno fa, i Terno Secco hanno dovuto cedere il posto ai Sole e Luna, la squadra che li ha battuti durante l'intesa vincente. Fino a questo momento non ci sono stati problemi, e al contrario, i Sole e Luna hanno dimostrato di saper rispondere a molte domande. Nel corso della catena finale, hanno perduto parte del loro montepremi, così alla fine, il valore dell'ultima parola ammontava a 11.000 euro. I tre campioni hanno deciso di acquistare il secondo elemento, dato che si sentivano molto indecisi sulla possibile parola. Così, le due parole sono state mostrate, ed erano «barca» e «forma». Alla fine, dopo il consueto confronto, i tre campioni hanno deciso di dire la parola comune, nonostante non fossero molto convinti. Il conduttore Marco Gliorni, però, ha annunciato che non era la risposta esatta, poiché in realtà la parola cercata era «condizione». Gliorni ha spiegato che la parola «condizione» si può riferire a «barca» per via del detto «essere sulla stessa barca», ma anche a «forma», ad esempio se si pensa alla condizione o forma fisica. Immediatamente, questa ultima parola ha scatenato una serie di reazioni sui social. Molti si sono scagliati contro gli autori, sostenendo che la parola «condizione» non centrasse niente con le altre due. Sono stati davvero tantissimi i commenti sui social di coloro che ritenevano che la parola scelta per l'ultima catena e per la vittoria del Montepremi fosse completamente insensata. In tanti hanno scritto che la parola «allora» potrebbe essere una qualsiasi, dal momento che non esiste mai un collegamento diretto tra i tre vocaboli, ma sempre molto fantasioso. Altri, invece, hanno sostenuto che gli autori abbiano scelto una parola insensata per far sbagliare la squadra. Tantissimi commenti si sono scatenati sui social, anche se ovviamente non arriva mai nessuna risposta dai diretti interessati. Ad ogni modo, un avvenimento come questo è già successo, in un recente passato. Molte altre volte si sono scatenate critiche contro il gioco di Rai 1. Ad esempio, poco tempo fa, molti utenti, soprattutto su Twitter, hanno attaccato il programma per via della catena finale a cui i Monelli, ex campioni ormai eliminati, hanno partecipato. Secondo molte persone, le parole da indovinare erano fin troppo semplici rispetto al solito, ed inaspettatamente lo era anche quella finale. In tanti hanno addirittura accusato i campioni di raccomandazione, o hanno sostenuto che gli autori facciano sì, in questo modo, che ci siano delle differenze tra le varie squadre e catene finali, anche se in buona fede. Insomma, il gioco dell'estate di Rai 1 causa molte volte delle polemiche e delle critiche da parte del popolo del web, e non solo. E' probabile che, prima o poi, qualcuno come Marco Liorni possa intervenire per dare delle spiegazioni e rasserenare gli animi dei telespettatori. Voi che cosa ne pensate? Avete notato anche voi delle stranezze nel programma? Come ad esempio le ultime parole a volte eccessivamente fantasiose, e poco collegate con gli indizi dati? A voi i commenti! Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. A voi i commenti!